Questa volta prendo l'iniziativa e non avendo mai fatto un video su All Elite Wrestling, lo show Dark in Onda, noi qui in Italia nella notte tra martedì e mercoledì su YouTube in maniera free, gratuita, libera, andiamo, è la prima volta che lo faccio il video su Dark, i risultati dalla puntata della notte passata, Jungle Boy batte The Blade, Devil 1 e Frankie Kazarian per conteggio, Pentel Zero M e Ray Phoenix battono Cesar Bonomi e Lee Johnson per conteggio, Brandon Cutler contro Peter, Avalon finisce in doppia squalifica, Matt Seidel batte Sonny Kiss per sottomissione, Dark Orders 3, 4 e 10 battono Aaron Solve, Angel Fashion e M'Badu per conteggio, Red Velvet batte Elania Black per conteggio, Ricky Stars batte Fuego del Sol per conteggio, Billy e Austin Gunn battono Rizin e Max Stardom per conteggio, Derby Allin batte Nick Comorodo per conteggio, Colt Cabana batte Griff Garrison per conteggio, Nyla Rose batte Killing King per conteggio, Joey Gianella batte il nostro connazionale italiano D3 per conteggio, Ward Love batte Eliadine per conteggio, Eddie Kingston batte Baron Black per conteggio. Ovviamente trovate sul mio canale l'anteprima proprio dallo show principale, l'Elite Wrestling Dynamet di questa, della notte tra oggi e domani, ciao!